Sulle frequenze di Radio Mondo, rete solidale. Buongiorno, Paola Mariangeli, microfoni di Radio Mondo, come vi consueto tutti i partiti per trascorrere con voi circa 20 minuti per parlare di volontariato. Oggi in studio abbiamo Nanina Colore, buongiorno, benvenuta Nanina. Grazie, grazie a tutti. Nanina è molto conosciuta su Rieti perché oltre ad essere la presidente dell'associazione Guazzabuglio porta avanti un enorme progetto che è il Sant'Erasmo dove abbraccia a 360 gradi molte sezioni del sociale e poi ce ne parlerà lei. Inoltre Nanina insieme ad altri 10 o 15 associazioni hanno fatto rete, hanno fatto rete, ne abbiamo parlato in diverse occasioni durante l'arco dell'anno. Questa rete si chiama Soli da Rieti. Voi sapete che su Rieti ci sono molte famiglie che si trovano nell'indigenza, indipendentemente se sono italiani o stranieri, e questa rete di associazioni si unisce per fare la raccolta di bene e di prima necessità alcuni sabati dell'anno, tra cui anche sabato 4 novembre. E in alcuni punti vendita, ne cito alcuni, quelli che mi vengono in mente, abbiamo il Perseo, abbiamo il Crai, abbiamo il Conad dell'ospedale, abbiamo il Conad di Contigliano, abbiamo poi l'Aliante, la Fornace, alcuni insomma ce ne sono diversi e grazie al contributo di questi volontari chiediamo a voi cittadini che andate a fare la spesa di non girarvi dall'altra parte, magari un pacchetto di dati da brodo, o una saponetta, oppure un barattolo di pomodoro, una bottiglia d'olio, qualcosa che non si deteriora e che possa aiutare queste famiglie magari a mangiare qualcosa. Ne parliamo appunto con te che oltretutto gestisci anche, fai parte della porta sociale e queste cose che si raccolgono verranno stoccate al magazzino della Polizia Municipale. Allora, diciamo che noi da tanto tempo ci conoscono tutti, la nostra associazione che farete con tante altre associazioni conosciutissime su Rieti lavora su un binario che è parallelo. Da una parte siamo da anni presenti sul territorio con il servizio sociale di Rieti, con la porta sociale che tanto ha voluto l'assessore Palomba, lo sappiamo, l'abbiamo detto tante volte, che ha creato la porta sociale che è praticamente una porta alla quale si rivolgono tutti coloro che hanno bisogno e ne fanno parte diverse associazioni che abbiamo citato tante volte. Parallelamente abbiamo creato le stesse associazioni ma anche con delle associazioni diverse che non fanno parte per forza di cose dell'altra. Perché per statuto hanno altre mission. Hanno altre mission. È stata creata la Solidarieti che è sempre una rete sociale, solidale, con la quale spesso provvediamo ai fabbisogni, al bisogno emergenziale alimentare reatino e non quindi del territorio. Venni di prima necessità, potrebbero essere anche saponi, carta igienica, sorbenti. Parliamo di cibo e non cibo, insomma food e non food. Che comunque sia l'una che l'altra, entrambi le reti solidali che spesso si incontrano con delle associazioni che comunque partecipano ad entrambi le cose, diciamo che rispondono a delle richieste sempre crescenti che stanno veramente creando diverse difficoltà. Il 4 novembre, ovviamente tu sei in prima linea con il CSV, ci sarà questa raccolta importante, questa raccolta che vede Rieti mossa veramente da una forza che è il volontariato, che è la solidarietà che vince da sempre, ma in questo momento più che mai perché abbiamo tanto bisogno di raccogliere e quindi perché siamo qua? Siamo qua per fare una chiamata alle armi, diciamola così, le armi sociali, una chiamata ai volontari di partecipare alle raccolte. E noi abbiamo delle squadre di volontari che insomma già sono capaci, ma soprattutto per dire ai cittadini che possono aiutare i cittadini meno fortunati e in questo momento più fragili di raccogliere per loro. Ovviamente noi abbiamo un vero e proprio staff che si occupa, come sai benissimo, perché poi un po' il CSV fa da collante. Abbiamo persone che si occupano della raccolta, abbiamo persone che si occupano dello stoccaggio, abbiamo persone che poi si occuperanno della distribuzione. Naturalmente c'è un criterio anche quello della distribuzione. Certo, intanto il criterio è quello di servire le persone che ne fanno richiesta, spesso note, spesso meno note, spesso anche diciamo nuove, giunte proprio alla porta della solidarietà e del bisogno da poco tempo. Però il criterio è quello di seguire la realtà delle cose. Cioè noi in genere andiamo un pochino mantenendo sempre alto il livello della tutela e del rispetto della privacy, perché ovviamente noi tuteliamo queste persone, tuteliamo la loro dignità, tuteliamo tutto. e nonostante ciò cerchiamo di coprire il maggior numero possibile di richieste. Non è semplice, perché quando si parla di volontariato sono tutti d'accordo. Volontariato è una parola importante, pesante, è una parola che riempie la bocca di molti. Quando poi però andiamo a fare conti con i numeri, dobbiamo scremare un 50%. Quindi alla fine le squadre che lavorano poi si riducono sempre alle stesse persone, i numeri sono più ridotti, però quello che ci gratifica è il grande lavoro e il grande risultato, il successo sociale che stiamo avendo. Ma non io personalmente che mi occupo di questo da tanti anni, ma è la gratificazione del volontariato. Visto come un seme che va piantato in un terreno che è quello dei giovani. I giovani spesso guardano il volontariato da fuori. Noi dobbiamo cercare di portarli dentro. Il seme del volontariato è un seme che poi germoglia. Sono i studenti fortunatamente che si stanno avvicinando e che ci daranno una mano per la raccolta. Il valore, diciamo, bacino di risorse umane fondamentali sono le scuole, ma anche il servizio civile universale che comunque collabora in queste fasi. E questo bacino, questo vivaio, chiamiamolo così, è fondamentale. Perché stiamo tracciando la strada per quelli che verranno dopo. Io vorrei fare anche un appello a tante persone che sono all'ascolto e che magari hanno un po' di tempo libero che potrebbero dedicare al volontariato. Avvicinatevi. Veniteci a trovare la casa del volontariato che è alla Torre D del centro commerciale Perseo, al CS Pulazio, per avvicinarvi a un'associazione piuttosto che a un'altra e dare un punto, un po' del, qualche briciola del vostro tempo libero a sostegno di quelle attività che ne avrebbero veramente tanto bisogno. E magari poi dopo entrare a far parte di quel circuito che è appunto Soli Dalieti e darci una mano quando faremo, si fanno appunto le raccolte, vero? Sì, perché diciamo che non è semplice formare delle squadre costituite da giovani capaci. I giovani si devono avvicinare al volontariato perché secondo noi è un percorso veramente di elevata moralità. e loro non stanno per strada ma danno e donano il loro tempo a una causa comune, a qualcosa di veramente fondamentale. Detto ciò, possono scegliere l'associazione che preferiscono, più incline alle loro peculiarità, perché le associazioni ce ne sono molte. Ognuna agisce in un ambito, per cui la varietà, chiamiamola così, l'offerta. L'offerta è enorme, è enorme. A proposito di offerta, vogliamo parlare del progetto Erasmo? Allora, il progetto Sant'Erasmo è un fiore all'occhiello nato a distanza di due o tre anni dalla, diciamo, costituzione del Guazzabuio DV, che è un'associazione riconosciuta dalla Regione Lazio, iscritta a RUNS, creata nel 2016, nata nel 2016, proprio a poche ore dal sisma di Amatrice, nasce il Guazzabuio DV. Da allora è stato sempre un crescendo. Il Guazzabuio oggi, a distanza di 6-7 anni, si apre su tre fronti importanti e ho, con un presidente e con una vicepresidente, ma con uno staff di eccessione, io direi che è veramente un dream team, cioè un team creato ad hoc e si occupa di food, quindi Sant'Erasmo Project Food, che è tutto ciò che riguarda il supporto alimentare nel disagio, nella fragilità. Poi si apre anche sul progetto Sant'Erasmo a Sara, che sarebbe accoglienza socio-affettiva, rieducativa, alternativa alla pena, che vuol dire che il Sant'Erasmo, attraverso dei progetti green, ecosostenibili, accoglie delle persone che hanno commesso o devono pagare qualche errore commesso che invece di stare all'interno delle quattro mura in un regime, fanno delle pene alternative, quindi messi alla prova, i LPU, gli affidamenti in prove e questo è. Naturalmente questo ci gratifica molto perché la nostra vicepresidente, ma comunque i volontari, ma anche le figure professionali preposte, accompagnano queste persone in un progetto virtuoso, in un percorso importante che li porta fuori da quello che era la loro visuale ristretta e li accogliono in un ambiente che poi li rende veramente migliori rispetto al momento in cui sono entrati. Senti, questi che finiscono il periodo di prova, che sensazione hanno? Cioè quando se ne affiniscono gli dispiace un po' oppure sono contenti? No, abbiamo avuto qualcuno che è rimasto come volontario e questo infatti è una cosa di noi. Perciò funziona questo percorso. Noi hanno scritto giornali importanti, ecco siamo stati intervistati tre o quattro volte dal Vatican News, dai Cellanti, che è una rubrica proprio che si occupa di questo, di messa alla prova, di detenzione extramuraria, di pene alternative al carcere. E questo ci ha fatto molto piacere, anche a Redi Solidali, sappiamo che ci ha dedicato degli spazi. Ha fatto degli articoli molto belli e questo è il bello perché chi entra da noi e rifiutava a prescindere il concetto della condivisione, dell'inclusione, rimane da noi come volontario dopo che ha finito il percorso. Quindi questo vuol dire averli interessati e averli comunque coinvolti in un progetto più grande. E questo era il secondo progetto. Poi abbiamo invece il progetto che ci riguarda, come tu sai benissimo, della disabilità di cui ci occupiamo da tanti anni. Infatti abbiamo delle figure all'interno dell'associazione figure professionali di qualità e sempre i nostri percorsi diciamo si orientano sul green, verso il green, verso l'andatura, verso gli animali e verso questo rapporto con delle cose molto semplici che però per noi sono terapiche veramente fondamentali. Quindi diciamo i nostri tre grandi settori sono il cibo, quindi la povertà e l'emergenza, poi la riabilitazione e la rieducazione sociale e per finire la disabilità. Quindi su Rieti siamo presenti H24 perché non ci dimentichiamo che il supporto alimentare per noi è tutti i giorni, non abbiamo dei giorni stabiliti. La vostra riadeazione si limita a Rieti o anche la provincia? Per quanto riguarda la porta sociale, noi siamo nella zona di Rieti centro e Rieti diciamo di Torni. Il fatto di avere anche il Sant'Erasmo ci permette di andare oltre la periferia e quindi se c'è qualche chiamata diciamo anche un pochino più lontana la possiamo servire. Quindi lavorando su due fronti, istituzionale e non istituzionale, possiamo sopperire alle richieste. Soli da Rieti è stato per questo un vantaggio, perché Soli da Rieti ci permette di lavorare anche oltre la città. Mi chiedevo se i nostri radioascoltatori magari hanno qualche interesse particolare a mettersi in contatto con te o perché gli piacciono le attività che fai o perché volessero segnalare magari una persona che si trova in difficoltà oppure magari sapere appunto divenire la pena alternativa. A chi si possono rivolgere? Allora, la nostra vicepresidente è la professoressa Cristiana Marconcini. Poi abbiamo delle figure professionali, ma comunque il numero da contattare è il solito, quello che sta sul sito, ma ancora meglio del numero, io direi che la mail è il guazzabuglio odv-gmail.com guazzabuglio ovviamente con la gl perché qualche volta sbagliano e finisce con la o e poi riparte con la o della odv, quindi il guazzabuglio odv-gmail.com è tutto piccolo, tutto attaccato. Questa è la mail dove chiunque ci può contattare e la nostra vicepresidente provvederà poi a rispondere. Ecco, saluto anche Cristiana Marconcini, la nostra vicepresidente che è anche presidente di Disabilità Rieti O.D.V., che è un bellissimo gruppo, un'associazione importante che collabora con noi e questo dice che cosa è la rete. Noi nella rete ci abbiamo sempre creduto tutti, pensiamo che fare rete vuol dire oggi arrivare dove prima non si riusciva a arrivare. Allora, siamo, diciamo, penso che abbiamo descritto il Santerasmo. Io vorrei mettere un attimo l'accento su solidarieti di sabato. Allora, invitiamo i nostri radioascoltatori ad essere, diciamo, bagnanimi verso quei volontari che vi verranno a chiedere un aiuto per le famiglie che si trovano in difficoltà. A volte siamo, forse, anche stanchi di vedere queste raccolte e ci sono persone che fanno delle uscite un pochino infelici. Io vi prego di essere, insomma, tolleranti perché si sta facendo un qualcosa, dando il proprio tempo libero e a favore di quelle famiglie o quelle persone che si trovano in momenti difficili. Allora... Perciò, magari, quel pacchetto di ministrina, quel pacchetto di dati, il pomodoro, cibi che non si deteriorano, che possono durare a lungo, oppure prodotti per l'igiene intima che anche quelli o saponi possono essere sicuramente di aiuto a queste famiglie. Molti, magari, non pensano che anche una bottiglia d'olio o extravergine di oliva potrebbe essere, appunto, una cosa molto importante perché, magari, chi non ha possibilità anche un goccettino d'olio sul pane è un pasto. Volevi dire, appunto, inquadriamo un attimo una locandina. Ci sono tantissime associazioni che si sono unite per solidarieti. Dunque, allora, io credo che l'appello più grande tu l'abbia già fatto, è importante. Raccogliere, sembra strano dirlo, ma può salvare la vita a delle famiglie che in questo momento o per dolore o per vergogna o per qualsiasi altro motivo chiedono poco o magari spesso non chiedono per niente. Quelli che chiedono, però, dobbiamo cercare di aiutarli. E questo è il volantino che voi troverete in questi supermercati, no? Sì, sì, sarà attaccato. La locandina sarà questa. Sì, sì, sì. Quindi la riconoscete. Ci saranno anche alcuni studenti molti studenti. Del Savoia che delle varie sezioni sociale o altro che hanno dato disponibilità in alcuni punti vendita che gli sono più comodi per prendere poi i mezzi pubblici e daranno una mano la mattina. Benissimo. Noi, l'appello più grande che vi rivolgiamo come associazioni, come Sant'Erasmo, è di donare. Donare poco, ma donare. Qualsiasi cosa e poi i volontari che saranno, diciamo, coloro che poi andranno a prendere queste donazioni e poi le stoccheranno, le smisteranno, che sono delle squadre insomma già preparate, vi ringraziano. E vi ringraziano le ultime 160 famiglie aiutate con le ultime raccolte fatte. E 160 famiglie sono tante persone perché il minimo dietro ci sono tre persone per ogni famiglia. Parliamo di 500 persone servite con l'ultima distribuzione. E volevo dire questo, il Guazzabuio.dv in questi giorni è diventato anche distributore fed, che vuol dire che attraverso la possibilità che diamo agli utenti fragili vulnerabili di fare domanda si potrà appunto adempiere poi alla copertura con dei pacchi alimentari. Per quanto riguarda il Fed bisogna contattare l'associazione e poi l'associazione li ricontatterà. sempre tramite mail che ricordiamo il Guazzabuio odv chiocciolagmail.com e provvederanno loro poi insomma lo staff a rispondere. Io ringrazio i nostri radioascoltatori ringrazio Radio Mondo per questo spazio gratuito che ci dà da sempre per promuovere cosa si muove in città sul tema del volontariato e mi auguro che alcuni di voi possano anche contattarci per darci una mano e ricordo anche che il CSV Lazio la casa del volontariato di Rieti è alla torre D del centro commerciale Perseo a Rieti e da lunedì al venerdì ci trovate quasi sempre perciò potete chiamarci allo 0746 27 23 42 Grazie e appuntamento a martedì grazie arrivederci avete ascoltato Rete Solidale a a a